per ora un baby nasce in hobbi hobbi con un'oggo te passa mi te chiede ti miagra ora bota maiore bota questa l'obbeda è fase non è un baby te nasce bosa essa di hobbi mas tempo boti mas dedicacione bagnelli non so bimbi mas close con unos baby non è chiquito bota non so vissi antferm da mani stai mani o l'agga mita cuideri mi sta hobbi cariñoso mi mese tamà sensitivo a mio bota asseripera bota comisa pappi massa bau non sei reporta doro of bosa l'agga e non c'è radio bota echt hobbi mas gefocust rippo un baby kiki baby mister a me dunque dunne cara 2-3 ora un botter oh l'upe dottichi mas grani kika ti comisa baby kika ti comisa come bota hobbi mas gefocust rippo il desarrollo per non sta met hobbi gefocust rippo ai tu dimmi eeeh eh 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 sweet talks motri preparatori in randi nang taci assi randi e molto taci assi apre eva comisa bene mas grani bia mas mondi ai da lue e come su se palla bra e come su pronunciare su mamma papa aung ambito come su rippura come su camina com potri prepara cuore ma io di bia ma hai giostela come su canna gli due alla cosa cheARDi i nostri studenti, ci sono anche le domenica di vêti quelle persone, no? È così, e molto per quando sei andato a tutto il disegno, ma non si portano un glass, ma lei non si doveva quando prenderemo un po', non si può dire, non mi coso, ma io l'ho volto, ma io guardo, e anche la fase di ora che abbiamo diventato 25-23 anni non si cresce. La più cosa che abbiamo fatto è non ha si ando sia di un environment positivo ando conos te in a pada di nozio mas mi honno di sorolle a prossimi carmi uta manio un lagano osbis un robot con nota ha si nada tampocco noto corretto pa e mochia pose nota si a deserroia di su mes di padem patico algo nota ok si invisa mio constantemente non no misi no no bayan no no ha si es aqui o bebea no sai maro te visite nos e mochia te visite no 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 so posso no sa rinke se ten e cabezca banoste kera e visite no acaba di ora que la comisca cana las prome palabro que te visite ora bobe se vai visite bobaia no ita ding joke pero na te escuche sei pero tan nos mesa implementar ding su cabez turi luna ng ei no 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 dos botin ku echt hunga ding esay cubo yu na un forma cubo yu ta comprande o si esay nota necesario banca na kinang mita giyabo dos hopi giyamento hopi papiamento pa e mocha ekla po comprande oh mamio papi kermen esay non sa di un kultura ko nos gusta taha tame no ama bisabo asina tasina botin ku hasi e pero si abote mayor ait eindelijk abose amperta dcd in nota nada abose amper lo dcd kiko bo yu tabai haasi pero bo yu tabai ten controlli sumis bo yu tabai ta un gende di sumis e no tabai ta solamente abota dcd ante mocha tabai haza tu cos kiko bo da visa e se botari para desarrollo te vira tinegers tinegers tambe te comisa experimentar mas y mas dus no mi no chiar mi chiar mamma no mi amigo bisame se mita hain importante in nota orobo dat baita te acuerdo gesey bo yu tabi sa algo a poti bise se discusión dingas y discusión na eid eiglic panansi adinan mes o meti un opinión propio coro mita jes ocho jes nueve vinti a comita pipa riba mi mes mita decidir e correcto dus in nang tinko duna e chance atrobe pa e mocha dan desarrollase pero de un forma eigengeluk positiva yu bom ee 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 ee